Una notte rischierata dalla luce della speranza di Cristo. Venerdì è stato un pomeriggio di festa in Piazza San Pietro con l'inaugurazione del presepe offerto dalla Fondazione Verona per l'Arena e l'accensione dell'albero e della nuova illuminazione della Basilica Vaticana. Come vuole la tradizione, il sapore delle regioni che hanno omaggiato il Pontefice ha fatto da cornice durante la cerimonia che ha introdotto i presenti nell'atmosfera gioiosa e intima del Natale. I suoi simboli per eccellenza hanno ancora una volta parlato di un amore infinito, così la rappresentazione della Natività dal titolo Il presepe in opera ha sorpreso tutti con le sue venti statue e la scenografia ripresa dall'Elisir d'Amore di Donizetti. Una rappresentazione che non teme il tempo così come l'abete non teme l'inverno e si erge verso il cielo con il suo manto verde. La regione Calabria ha offerto quest'anno la conifera alta 25 metri e mezzo per 80 quintali di peso. A lasciare tutti attoniti anche la nuova illuminazione a LED della Basilica Vaticana che esalta l'architettura della struttura e consente un risparmio energetico del 70%. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.